L'ufficio nasce naturalmente dalla necessità di accogliere al meglio i turisti e i visitatori di questo borgo che sono come sapete numerosissimi, stiamo parlando probabilmente del primo sito culturale in termini di presenze marchigiano e fino al 2019 eravamo il trentesimo sito culturale in Italia per numero di visite. Quindi c'era la necessità di avere uno strumento più flessibile, un'attività più performante dal punto di vista delle richieste. I visitatori oggi entrano e i turisti naturalmente con una serie di richieste che sono modificate negli ultimi anni e soprattutto dopo la fase pandemica le richieste sono anche di materiali non sempre cartacei ma informazioni a tutto tondo anche dove trovare le informazioni. Questo è un ufficio di informazione turistica evoluto nel senso che è possibile acquistare naturalmente non solo i biglietti dei materializzati, fare delle promotazioni, noleggiare addirittura le biciclette per fare un tour nel circondario, acquistare i prodotti che sono sia non gastronomici che dell'artigianato artistico. È un fatto concreto che parla di integrazione, che parla di rete tra un territorio bellissimo quale è il nostro, quello più vicino, mi riferisco al San Bartolo, Agapicci, Cadara e Pesaro ma che non guarda solamente a quest'area ma si rivolge anche verso lento terra come Tavuglia oppure Mercatario sul Metauro ma non guarda neanche i confini regionali. Infatti la presenza del Comune di San Giovanni qua e del Comune di Cattolica testimonia come la nostra vocazione, essere territorio di confine, poi si traduce in cercare collaborazioni nell'ottica di una promozione turistica che ovviamente non interessa il confine istituzionale ma vuole avere un'offerta che sia integrata, che sia facilmente accessibile di un territorio ricchissimo dalle mille opportunità quale è il nostro. Un percorso di rilancio turistico con progetti chiari anche di costruzione di distretti e circuiti che riescono a cambiare esperienze, a ottimizzare le risorse e a creare sinergie. Tre fili di conduzione che devono creare nella nostra regione un'economia turistica che possa essere in grado di affrontare la sfida della destazionalizzazione, dell'attrattività nei confronti dei mercati nazionali e internazionali ma anche di spingere tanti che oggi possono dare un contributo di investimenti, di idee, di energia e di risorse rispetto ad un settore che può diventare filiera trainante nella nostra regione.